E ho il piacere di essere in compagnia di un amico che ci porta sempre la colazione, Maurizio Poli, buongiorno! Buongiorno, Cristina. Buongiorno! La regia è praticamente hilare oggi. Beh, insomma... Insomma, siamo prigionieri della regia. Un attimo che non ci sei più in onda. Ah, senza regia non si fa niente. Un attimo che tu non ci sei più. Buongiorno ai tuoi telespettatori. Paese democratico, ragazzi. Ah, già, già. Però la televisione non è democratica. No, no. Dipende come la usi. Eh? Ti l'ha detto? No, nel senso, intendevo dire, non la televisione in sé come comunicazione, ma il meccanismo della televisione non è democratico. Perché se io non volessi più far parlare Maurizio, tu abbassi il microfono, inquadri me e scompare. E Maurizio non c'è più. Comunque ci sono state... Ci sono, non ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno Maurizio. Allora, caro, intanto ricordiamo sempre Restart. 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 Mercoledì. Mercoledì alle 21.45. Parleremo di arte e finanza. Arte e finanza. Un connubio particolare. Una bella puntata con i graditi ospiti, i bresciani e però parlano anche respiro un po' internazionale. Ci parleranno dell'arte legata all'investimento legata alla collezione. Ecco, speriamo che ci siano tutti. Ci sono tutti. Ah, ci saranno tutti. C'è una battaglia in corso tra me, Cristian, aperta e chiusa parentesi, con le vallette. Con le vallette. Sta vincendo Cristian 1 a 0 per adesso. Ma ci ho anche commentato. E' vero, è vero, Cristian, è vero, bello il tuo programma, ci sono delle bellissime vallette. Complimenti anche tu, ho imparato da te, ho imparato da te e quindi mi sono adattato anch'io. Abbiamo siglato la pace televisiva. Allora, però noi oggi siamo qui non per parlare di noi, ma per parlare della situazione che c'è nelle banche. Il risparmio tradito lo chiamano. Il risparmio tradito e se vogliamo anche la polemica che c'è sul ministro Boschi, non tanto su di lei come persona, ma lei come famiglia. Saviano, lo scrittore, ne ha chieste le dimissioni, dicendo che si sono date le dimissioni nel governo Berlusconi per molto meno. E' una delle poche volte dove anche la Lega Nord si trova d'accordo con Saviano, quindi vabbè, è normale che ci sia questa parte di opposizione. Quindi, non so da dove vogliamo partire. Parliamo solo dalle regole che ci dovrebbero essere. Le regole sono importanti. Qui si parla di risparmio tradito, poi torniamo sulle quattro banche e su quelle di cui ancora non si parla. Anche perché, scusami, c'era su Libero, intitolato sabato, truffa delle banche, ecco le prove e praticamente viene fuori che queste persone non sapessero del rischio. Si parlava nel prospetto di nessun allarme, bond rimborsabile al 100%. Allora, facciamo un po' di chiarezza. La situazione che si era venuta a creare era molto impellente. A gennaio scattano delle regole europee, in cui questo termine inglese che noi portiamo qua, che si chiama bail-in, cioè in soldoni, rispondono anche i clienti se la banca fallisce a fasce a seconda di determinati scalini, chiamiamoli così. In primo luogo rispondono gli azionisti, se sei azionista, se sei conscio che c'è un rischio, se sei azionista di una società, eccetera, ne hai gli oneri e gli onori. Alcune obbligazioni, cioè quando tu presti i soldi alla banca, l'obbligazione vuol dire che io prendo i miei soldi, li do alla banca, come li do allo Stato in bot, li do alla banca e li presto. Ci sono varie... E quindi la banca a quel punto può usarli come vuole per X anni. E poi per X anni dice, vabbè, li facciamo a cinque anni, a tre anni, insomma, e ti dico, ti do gli interessi, ti do gli interessi a scalare, a salire. Ci sono varie sfaccettature. La clientela, in questo momento qui, di banche locali, stiamo parlando di banche locali, ci sono sempre, e usiamo una parola che useremo spesso qua, adesso si chiama fiducia, fiducia, non risparmio, non risparmio, fiducia. Io andavo da Cristian, ciao Cristian, lo vedevo al bar, abitavo lì in paese. Il bar è facile. Il bar è facile, però molti direttori, io l'ho fatto quando ho fatto il direttore di banca, mi dicevi al bar, sì, però la gente la frequenti anche lì, e se vuoi parlare con le persone, con le famiglie, ci sono anche lì, e quindi ti vedevano lì, in giro per il paese, quant'altro, gli avvenimenti, gli eventi che organizzavi, e si rivolgevano a te con fiducia. La capacità è fiducia, tutto lì Cristian, e poi anche una certa cognizione di causa. Sicuramente è cambiato qualcosa dal 2008, le pressioni all'interno delle banche per vendere determinate cose sono aumentate, e chi non sta alle regole viene marginato, o peggio, all'interno della struttura bancaria è così, classifiche, punteggi, uguale soldi. Se tu non fai quello che ti viene detto, sei allontanato. Questa è la realtà del mondo bancario all'interno, e questo succede non solo in Banca delle Turi, Banca Marche, Popolare di Vicenza, Vento Banca, se tu non stai alle regole che ti vengono imposte, è questo, però c'è anche una regola tua, regole che vengono date dalla comunità europea, e da leggi che dicono che devi analizzare il profilo di rischio del cliente, cioè la sua capacità coronarica, cioè chiamiamola il suo stress coronarico, per stare esempi semplici come siamo sempre, usi fare qua da te, senza usare parole uniche, quanto io ho di capacità di stress, di sopportare, se uno ti dice, guarda Maurizio, questi sono i 40.000 euro della mia mamma di 90 anni, o sono i miei 50.000 euro della liquidazione, vorrei ritrovarmi, sai Maurizio non voglio rischiare, perché ci conto per, ci conto per... Insomma, la liquidazione, per chi ancora ce la potrà avere... E questa è una situazione, e questo è uno. È un tesoretto. Arriva Maurizio e dice, no, guarda io ho qui 300.000 euro, va bene, 300.200 elementi di guaggia, va bene Cristian, investiamoli, investiamoli, però mi interessa quel bond lì, paga bene, lo voglio fare, e tu dici, va bene, guarda, non mettiamoli tutti, 300.000, Certo, non rischiamoli tutti. Visto che tu vuoi, visto che tu vuoi, e la tua capacità di capire queste cose c'è, va bene, facciamone 20.000, facciamone 50.000. Ok, questi sono due esempi ben delirati. Non voglio rischiare, perché sono di mia mamma di 90 anni. Certo. Sono io che decido che mi sta bene. Allora, le obbligazioni bancarie non sono satana, non sono gli investimenti in banche, non sono satana, perché permettono, e hanno permesso, e permetteranno ancora in futuro, di poter prendere dei soldi e rimpiegarli, dandoli in prestito. Prendiamo questa parola e mettiamola qua. Prestiti. Benissimo, la banca fa questo, prende i soldi da Cristian, li presta a Maurizio, e guadagna sulla differenza. Questo è il lavoro della banca. Deve stare attento a che Maurizio restituisca i soldi, e dare a Cristian quello che gli ha promesso, cioè i suoi soldi e l'interesse. Certo. Questo è il lavoro della banca. Cosa è venuto a incepparsi in questo meccanismo qua, in queste quattro banche molto chiacchierate, e ne mancano delle altre nell'elenco. È venuto a crearsi... Non sono altre nell'elenco, perché salteranno fuori successivamente? Ci sono già, nel mondo bancario, ci sono già... Ci conoscono già. Ci conoscono già, e ci sono già assemblee di azionisti, in questo caso qui, ma preoccupati anche delle obbligazioni subordinate, di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, in cui le azioni erano vendute a 60 euro, adesso siamo intorno ai 6, 7, 8 euro. Ah, caspita, è una bella differenza. Ecco, ma come venivano date questi soldi? Perché la gente si ritrova in mano azioni? Lascia stare delle obbligazioni, le azioni. Che succedeva a questo? Entravi in banca, vuoi il mutuo? Sì. Compra 15% di obbligazioni o azioni della banca. Sai, per facilitare il mutuo. Questa era la prassi, non scritta ma consolidata, soprattutto 15% in Banca Popolare dell'Etruria, per tornare lì. Ma anche nelle altre banche, anche nelle piccole banche locali, BCC e quant'altro. Questo è il modo, se tu vuoi, ma anche in aziende, aziende vuoi i fidi, e l'azienda deve lavorare col fido, era quasi, tra virgolette, era una cosa obbligata, dice, vabbè, le compro, le metto lì, poi le rivenderò quando ho finito. Molte aziende adesso si ritrova a dire, benissimo, adesso le rivendo, ma se 60 valgono 7? È una bella differenza, voglio dire. Anche per un'azienda sono soldi. Non valgono più niente. Poi arriviamo al fatto di cosa è successo. I crediti dati a Maurizio, alla società Maurizio S.P.A., non sono più tornati indietro a Cristian. Perché? Perché non ha più pagato. Come funzionava? Chiamavano Cristian e dice, dagli i soldi, ma Cristian dice, no, guarda, non se li merita Maurizio. Tu dagli ali. Ci sono crediti incagliati per milioni e milioni di euro, ecco perché queste quattro banche sono saltate. Quindi sono stati proposti questi soldi a aziende che... In maniera forzosa, diciamo, facendo credere al cliente. Sì, sono stati dati e non sono più tornati in casa. Ecco perché non ci sono più i soldi per pagare e per ridare indietro. Cioè, mancano i soldi dalla cassa. Questo è il fatto. E cosa è successo? Han detto... Ma c'è una truffa di fondo, quindi. E qui dovrebbero... Andiamo, noi riportiamo... Sul campo della magistratura. Esatto, noi riportiamo quello che leggiamo sui giornali. La magistratura, le procure, dove cavolo erano? Perché alla fine... Perché il primo bond subordinato, la parola subordinata, oltre che dall'America o dagli paesi... Noi l'abbiamo imparata dalla prima banca che si è trovata in difficoltà, che è Monte dei Paschi di Siena. Certo, certo. 7 miliardi, che aveva fatto il suo bond subordinato, ti parlo del 2008-2009, che andava al 7-8%. Io mi confrontavo con clientela che mi diceva ma Maurizio, mi danno l'8%? Dico, sì, ma che rischio stai affrontando? Che rischio facciamo? La parola rischio, parola fiducia, sono importanti. Se una famiglia ha 10.000 euro, non dico di metterli tutti in una cosa. Devi un'altra parola che non è mai usata come educatore finanziario, devo riportarla e diversificare. Non è una parola per riempirsi la bocca. Un buon padre di famiglia divide le cose e divide il rischio. Ma la parola fiducia me l'ha detto il mio amico direttore. Molti che verranno interrogati adesso, molte famiglie, diranno la fiducia. Io mi fidavo. Attenzione, noi non vogliamo denigrare il lavoro di molti bancari e promotori finanziari, educatori finanziari, onesti che ci sono. Ma stanno correndo il rischio di mettere tutto in un sacco. Tra l'altro, quello che viene fuori dalla dichiarazione del ministro Padovan, poi chiaramente ogni giornale gli dà un taglio diverso. Sfumature politiche. Esatto. Quindi Libero dice Padovan in colpa le vittime e dice ignoranti. In realtà su altri giornali si parla Ma tu, Cristian, stai facendo una cosa qua con la tua trasmissione dando anche a me voce un pochino quando mi ospiti qua. Tu stai facendo una cosa che è adesso dicono tutti di dover fare Banca d'Italia, di educazione finanziaria. Esatto. È di quello che si parla. Tu lo stai facendo da un po', permettendo alla mia facciona di venire qua e di parlare di questi argomenti qua a livello semplice. Me lo dici sempre, Maurizio. Parliamo in maniera semplice. Perché credo che sia importante. Infatti quello che poi tirandone le somme di questi tre giornali viene fuori che quello che manca veramente alle persone è un'educazione finanziaria. E poi i controlli dove erano? Banca d'Italia sette volte è andata in certe cose. Dove era? Consova ha detto adesso il direttore generale della Banca d'Italia ieri ha detto facciamo una legge per proibire la vendita dello sportello di bondi subordinati. Perché arriva tutto dopo quando le regole ci sono anche prima? Certo. Pronto? Sono Luisa buona giornata Ciao Luisa buongiorno Luisa buongiorno signor Poli buongiorno dunque le sofferenze bancarie sono diventate le sofferenze dei clienti delle banche questa è una triste battuta ma sembra essere purtroppo la realtà senta visto che appunto parlava di educazione finanziaria avevo una domanda prego adesso dunque dall'anno prossimo con questa storia del bailing che una volta ogni tanto porca miseria si parlasse in italiano tutto sarebbe più chiaro ha ragione quindi dovranno contribuire gli azionisti gli obbligazionisti e mi sembra i correntisti al di sopra dei 100 mila euro lei non ha bisogno di educazione finanziaria ha fatto la fotografia perfetta no no aspetti io vorrei sapere una cosa chi dovesse avere comunque un deposito supponiamo in fondi cosa succede viene considerato correntista o è diciamo salvaguardato è una bellissima domanda questa veramente si dice sempre in televisione la ringrazio per la domanda ecco io lo spiace se l'ascolto per televisione perché l'audio del telefono il mio telefono sente molto male grazie signora ha toccato un altro argomento interessante la signora Luisa si chiama risparmio gestito i fondi eccetera lì è la differenza tra affidare dei professionisti la gestione dei tuoi risparmi e fare come se è stato fatto adesso ci sono molti casi in cui il risparmio gestito vuol dire separazione della gestione dall'emittente cioè la stessa banca il conflitto di interessi di dare delle obbligazioni sue è molto elevato quindi se io affido a un professionista che a seconda del mio profilo di rischio torniamo anche lì in cui ho fiducia mi gestisce il mio denaro non mi dà la garanzia sicuramente alla fine dell'anno di potermi restituire ma il mio patrimonio è separato e c'è un professionista che gestisce in maniera professionale e asettica con i suoi errori con le sue tendenze di mercato lì non rispondo i miei soldi sono lì sono sicuri altra cosa ha detto la signora dei 100 mila euro dei conti si sono garantiti stiamo tranquilli fino a 100 mila stiamo tranquilli fondo di garanzia c'è non c'è rischio sistemico in questo momento qua l'unica cosa che non si deve scatenare è il panico di porto via i soldi ma dove li porto li metto nel materasso sotto la mattanella l'altra volta a casa di Cristian ho visto un paio di mattonelle un po' alzate sollevate e anche i materassi sono diventati totalmente abili esatto ho detto ma non ho fatto domande non ho fatto domande quando sono stato ospite a casa di Cristian non ho fatto domande però a parte la mia battuta rincuoriamo la signora il risparmio gestito è una garanzia in Italia ha fatto raccolte e anche quest'anno supererà per masse raccolte da professionisti come me o come altri enormi e dà soddisfazioni in quest'anno la borsa italiana nonostante settimana scorsa non sia andata bene ha fatto meno 7 a livello mensile comunque dando un numero perché parliamo di numeri dall'inizio dell'anno la borsa italiana ha fatto più 13% non è male non è male assolutamente no non è male nel risparmio gestito quindi quei soldi lì sono tranquilli ci sono anche polizze fatte in compagnie assicurative che hanno la gestione separata se succede qualcosa alla compagnia i soldi sono in un altro cassetto separati dalla gestione ordinaria i miei soldi sono ancora lì i rendimenti stiamo parlando dell'anno scorso lordi stiamo parlando di un 3,10 3,20 lordo tolto le tasse questi sono i tassi normali quando tu vedi un bond o un'obbligazione che ti viene offerta a tassi 7,5 quando i bot fanno meno 0,1 qualche domanda te la devi fare io non sono soldini il navigatore solitario non mi metto faccio un corso di vela e parto faccio il navigatore solitario mi vado a schiantare contro il primo scoglio che trovo fuori dal porto sempre che non finisci dentro un porto esatto o un annego subito lì quindi io dico sempre non andiamoci da soli facciamoci accompagnare confrontiamoci ci sono tanti modi ci sono tanti bravi professionisti sentiamoli una persona che va in banca si fida crede di trovare si fida all'interno dei professionisti che ti sappiano consigliare molti 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 bancari ultimamente c'è stato un rimircolamento delle carte molti gli danno solo quello da proporre quindi è come avessero un prodotto da vendere è un ruolo di coscienza esatto e hanno e devono spingere devi essere conscio che a quel cliente lì alla nonnina non gli dai se ha 50 mila euro non gli dai 50 mila euro di bondo subordinati della banca quindi diciamo che chi è all'interno di un istituto bancario può essere che insistano diciamo nel venderti un prodotto piuttosto che un altro perché gli è stato detto di venderlo e perché magari hanno delle tra virgolette provisioni più alte esatto poi dopo ci sono dei premi poi dopo manca anche un po' di cultura finanziaria all'interno sì sembra che sto dicendo una parolaccia sì sì non sono certificati i corsi europea financial advisor di molte banche non ci sono non sono certificati quindi da quel punto di vista lì bisogna quanto meno sto parlando dei miei soldi un piccolo così scrivere su google se non ce l'ho la nonnina non può farlo ma il nipote sì ma il figlio sì ma il vicino di casa può aiutarla l'educatore finanziario sì aiutiamo queste famiglie perché è aiutare anche la comunità che prosperi perché ripeto dare i soldi alle banche sane che hanno progetti sani non è una bestemmia si è sempre fatto e bisogna tornare a farlo in maniera perché la piccola azienda abbia il denaro per poterlo avere non gli amici degli amici che dopo i soldi non tornano più e questa crisi sistemica dopo viene a svilupparsi stiamo parlando che letto sui giornali quindi non perché me lo sono diventato presidente collegio sindacale di banca marche che dovrebbe controllare il primo organo di controllo se le cose sono fatte bene per spiegare se volevi il mutuo voleva il 5% ah ecco giusto per essere preciso sono stato chiaro quindi non è il solo caso il denaro dato così ha non è più tornato indietro e ha mandato in ginocchio un'intera economia creando Marche centrali Lazio creando creando problemi anche morti perché adesso tornando a quello che tu mi hai fatto all'inizio il riferimento popolare dell'elettura perché è famosa perché il papà della Elena Boschi ministra eccetera eccetera era vicepresidente ma non si ricorda spesso che il fratello dell'Elena Boschi era capo all'interno di Popolare dell'elettura proprio del reparto crediti è lì che è stato il problema quindi in realtà il allora il problema chiaramente non è lei come persona perché lei nel campo delle banche non c'entra niente i colpi dei padri non possono ricadere sui figli e viceversa ma qui abbiamo famiglia tutta la famiglia fratello e una notizia da confermare che ho visto di sfuggita ma la dico la cito con verifica di inventario oltre che ci sia anche la cognata dentro ecco quindi quindi la famiglia Boschi il conflitto di interessi che ci può stare dietro chiaramente per un ruolo importante come quello di un ministro istituzionale dice abbiamo salvato quattro banche perché proprio hai salvato quella lì perché proprio adesso hai salvato stai cercando stai cercando adesso è stato istituito un fondo prendendo dei soldi del fondo interbancario di garanzia cioè quello che garantisce i cento milioni prendendo cento milioni di euro dicendo facciamo una cosa umanitaria vabbè umanitaria facciamo una commissione inchiesta e ci sarà un arbitro che dirà Cristian fammi vedere le carte e decideranno se tu quei soldi lì li hai avuti compressioni che sono andati a te e te ne daranno una parte indietro si ipotizza dal 20 al 30% dal 20 al 30% però se uno c'era 100 mila euro se ne trova 20 mila esatto però adesso sono ipotesi stante le carte stante le persone stante che adesso la gente sta chiudendo i conti in quelle banche lì ma ci credo cioè adesso voglio dire sta chiudendo i conti avviene tutto però ci hanno fatto le quattro banche nuove venite da noi con fiducia eh sì e non c'è più e non c'è più la fiducia in quel territorio lì direi di no nel senso che è ovvio che si vuole andare anche verso i grossi gruppi e far morire quelle che sono le banche piccole però dall'altra parte se le grosse banche guarda che le grosse banche hanno i loro problemi Unicredit per fare un nome ha annunciato la chiusura in tutta Europa licenzerà 18 mila persone in Italia chiuderà quasi mille sportelli insomma se è una riorganizzazione tecnologica in atto sì ma non è solo quella non è solo quella non è solo la riorganizzazione tecnologica che è in atto c'è anche il discorso di poter valutare dove vanno i miei soldi fino all'altro giorno la banca locale andava bene sì devo vedere chi c'è in consiglio dell'amministrazione devo interessarmi devo sapere se in consiglio dell'amministrazione della mia banca c'è gente valida o amici degli amici che fanno i loro interessi vi devo vedere se all'interno del consiglio dell'amministrazione c'è persone che hanno una visione economica giusta che dia risparmio che vada alle piccole imprese e che dia sostegno al territorio e non operazioni di pura speculazione come sono state fatte allora ci sono banche sane? sì posso controllarlo? sì posso verificarlo? sì non mettere tutti i soldi in un'unica scatola? sì è sempre stato detto questo però tu dici è possibile controllarlo verificarlo in che modo? allora ci sono delle regole in cui danno una classifica una classifica leva anche di sicurezza il limite diamo un numero è 9 c'è questo chat per dare qualche piccola cosa tecnica devo dirla per forza ci sta si chiama così si chiama 7 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 allora il numerino magico è 9 su tutti i giornali apparirà queste classifiche se sta sotto il 9 comincio già a dire 8 e mezzo oh mamma mia non è così allora il parametro è 9 la matematica non si commenta bisogna vedere se queste banche fanno solo raccolta ci sono solo banche in Italia che fanno solo raccolta e non prestano denaro oppure ci sono banche che fanno raccolta e prestano denaro anche perché in prestarlo c'è il rischio c'è il rischio ma crea anche interessi esatto quindi bisogna dare un'analisi di questo genere ripeto le operazioni dal punto di vista analisi della persona che è di fronte il rispetto della fatica del denaro della persona che è di fronte è la base del nostro mestiere il rispetto della persona della sua storia della sua famiglia e dei suoi progetti e poi come ripeto a tutti va manutenuta la cosa devi manutenerla come fai la manutenzione alle gomme della macchina d'inverno le cambi e metti sulle altre fai l'olio acqua ci stai attento vai a fare ci vuole controllo vai a fare analisi del sangue per te stesso per sapere come stai sì ci vuole controllo anche per i tuoi soldi facciamo che andiamo a parlare con il mio consulente quindi non capisco il ruolo del consulente è importante perché è una figura terza quindi è esterna e poi controlla agli interessi di una singola banca e controlla quindi poi controlla chi è il mio consulente ci sono gli albi ci sono le certificazioni vedo se questo consulente si aggiorna si informa fa corsi di formazione è certificato da un ente è dentro in determinati albi sì è un primo gradino non è la soluzione ma quantomeno so che è controllato e ha determinate si informa è aggiornato se non capisco il mio consulente che potrei essere anche io sento un altro e da lì traggo delle conclusioni attenzione andiamo a sentirli ogni colloquio non come fosse una messa no andiamo a sentirli ma andiamo confrontiamoci quando c'è un rapporto ci si può sentire anche una volta al mese una volta in tre mesi una volta ogni sei però però non lasciamo che le cose scorrano non lasciamo che il mio risparmio cambia mia figlia ha compiuto 18 anni adesso va all'università voglio prendere questi soldi devo fare qualcosa d'altro c'è la mia mamma che deve andare mi metto qua devo andare a Lourdes ma a prescindere da quello voglio che adesso a 65 anni quando ne avrà 90 che devo mettere le case di riposo voglio che questa somma mi sia di sollievo ci sono tante vicissitudini nella vita che vanno e anche l'incertezza del futuro che quindi allora anche perché noi sappiamo che nel periodo cioè noi siamo in crisi da sette anni però sappiamo che i risparmi degli italiani non sono diminuiti no anzi quindi vuol dire che questa è una chiave importante per il futuro cioè i risparmi che noi abbiamo io vorrei poi che questo risparmio venisse impiegato per cose buone ci sono tante imprese storiche imprese nuove eccetera che hanno bisogno di questo risparmio per progredire per generare lavoro per dare l'impiego eccetera se creiamo nella gente questo paure dissennate c'è il rischio che effettivamente come dici tu se lo tenevano già fermo il risparmio non lo muovono neanche più quindi il discorso di dire adesso vietiamo la vendita allo sportello dei bond subordinati arriviamo tardi la Consob due giorni dopo che sono state queste banche tra virgolette salvate ha detto che bisogna fare maggiore informazione ciò che tu stai facendo di educazione finanziaria noi come nel nostro piccolo come Restart lo facciamo da tre anni eh sì la Giusi lo fa adesso andiamo anche stiamo facendo dei piccoli eventi che in luoghi che avete fatto a Cremona abbiamo fatto a Cremona adesso con i sindaci che sono stati ospiti nostri siamo in colloquio con alcuni sindaci faremo degli incontri in qualche comune seguiteci sui social dove faremo delle serate di così approccio alla finanza basico se ci saranno dei professionisti ci confrontiamo anche con loro ma noi cerchiamo di dare i primi rudimenti dall'A alla B alla C cercando di fare quello che possiamo per spiegare al meglio e tranquillizzare le persone noi nel nostro piccolo lo faremo siamo iscritti all'album degli educatori finanziari promotori finanziari siamo certificati da un ente certificatore del nostro lavoro si chiama Europea Financial Advisor siamo subagenti sicurativi la formazione continua la devi fare se no ti buttano fuori questo è fondamentale ti danno un calcione nel sedere e tu non fai più la professione quindi come educatore finanziario farò questa cosa qui senza nessuna etichetta di nessuna casa di gestione senza nessuna parlare di prodotti ma spiegandoli spiegandoli sminuzzandoli e dicendo questo è fatto così facendo così cerchiamo nel nostro piccolo di aumentare la conoscenza perché se tu aumenti la conoscenza del tuo interlocutore vi parlate meglio avete possibilità di confrontarvi al meglio assolutamente di capire meglio di capire meglio e di poter gestire meglio il tuo denaro e le tue prospettive questo si cresce buongiorno sì pronto buongiorno buongiorno sì sono in diretta sì diretta ok buongiorno sono Doriano ciao Doriano ciao allora io volevo soltanto chiedere questa una cosa al suo ospite prima di arrivare alla mia considerazione prego volevo sapere praticamente se potesse spiegare in maniera molto semplice in che cosa è consistito il salvataggio di queste banche da parte del governo comunque sia con quello che c'è stato perché questo è importante da dover capire senza cosa spiegato mi spiace ma ho girato adesso il canale poi dopo faccio una considerazione se è possibile non è che lo rispieghiamo lo riproponiamo lo riproponiamo allora queste quattro queste quattro banche lasciandole stare le altre che sono sull'orlo di questo del baratro del baratro a gennaio 2016 partirà la regola europea che a rispondere di un dissesto di una banca a vario grado risponderanno azionisti obbligazionisti e correntisti a vario grado adesso per non arrivare che questa legge partisse e che i danni fossero ancora maggiori qui stiamo parlando di un enorme fetta ma sarebbe stata ancora più alta di risparmiatori coinvolti hanno messo una pezza all'italiana hanno diviso in tre la banca queste quattro banche le hanno divise ognuna in tre hanno fatto la banca cattiva bad bank in cui ci hanno messo dentro tutti i crediti che sono stati hanno fatto come con l'italia bravo e hanno messo tutti i soldi che non tornano più indietro in questa scatola qua hanno preso un altro pezzetto di banca l'hanno messo in liquidazione parte della liquidazione verrà per riportare i soldi immobili e quant'altro e hanno fatto la cosiddetta scatola della banca buona tenendo degli asset positivi questo è quello che è successo ma nel fare questo hanno detto pagano gli azionisti perché hanno azzerato il valore dell'azione e pagano chi ha sottoscritto le obbligazioni subordinate non quelle ordinarie questo è quello che è successo Doriano? sì ci sono ci sono ascoltando ecco e apposta per questo io innanzitutto ringrazio per la spiegazione perché è una spiegazione proprio perfetta proprio perché su questa cosa qui c'è praticamente l'Unione Europea che comunque decide come vanno come vanno gestite queste cose nel senso che comunque non è adesso che è stata fatta questa cosa è stato già deciso praticamente che nel momento stesso nel momento stesso in cui praticamente la banca va in default allora a questo punto sono comunque azionisti contocorrentisti obbligazioni obbligazioni a dover rispondere Doriano la posso fermare un secondo solo se posso? lei ha toccato un argomento molto interessante di quello che sta dicendo adesso ha toccato la parola Unione Europea all'italiana siamo arrivati tardi noi potevamo fare altri tipi di scelte sì ma l'Unione Europea ci ha detto due anni fa potevate fare questa scelta perché noi eravamo andati a dire prendiamo i soldi del fondo interbancario usiamoli per dare indietro i soldi almeno agli obbligazionisti gli obbligazionisti sanno il rischio che corrono agli obbligazionisti usiamo questi soldi l'Unione Europea dice sì altre banche l'hanno fatto in altri paesi europei due anni fa adesso la regola è cambiata vi siete svegliati tardi questo è successo in maniera soldoni proprio spicciola Doriano lei mi ha dato l'opportunità di poterlo dire siamo arrivati tardi ma io proprio su questa cosa ci tengo a dover dire perché lei comunque si parlava di fiducia io vorrei che è comunque una cosa importante sicuramente per il mondo per il mondo della finanza però quello che voglio dire io se l'Europa mette questo tipo di regole se l'Italia si sveglia tardi e quando si sveglia si sveglia in questa maniera che praticamente chi ci rimette sono praticamente poi le persone che potevano essere in qualche maniera io poi capisco che c'è una grossa differenza tra tra praticamente chi sottoscrive un'obbligazione eccetera però è anche vero che è un conto che tu la sottoscrivi in maniera cosciente e questo lo fanno solitamente gli intermediatori finanziari che anche loro non erano molto tra le altre cose al corrente dei vari rischi da quello che è venuto fuori a livello ecco quindi figuriamoci il cittadino allora in questa maniera se da una parte l'Europa dice questa cosa e tra le altre cose dice anche che il conto correntista comunque ne risponde vuole dire se io ho pochi soldi in banca se la mia banca fallisce praticamente anche io ci rimetto in questa cosa qui è vero che poi ci sono le clausole di salvataggio per il 100 mila euro però non complichiamo la faccenda però voglio dire in questa cosa qui quando Europa fa una cosa l'Italia non la risolve o quando la risolve la risolve in questa maniera io credo che gli italiani da domani a mattina prenderanno i propri risparmi e si rimetteranno sotto il materasso come tra le altre cose si usava a fare nei tempi indietro e questa è la realtà dei fatti quindi su questa cosa qui e poi anche il fatto che praticamente l'ultima cosa che dico anche il fatto che comunque sia se verranno dati dei risarcimento a modi a modi lemosina verranno dati comunque sia con fondi statali quindi comunque prendendoli dalle nostre tasse non è neanche giusto perché si è fatta la bad company che rispondessero quanto meno loro in questa maniera invece sembra sempre che chi risparmia alla fine non è tutelato ma non è che lo sembra lo è di fatto e di conseguenza questa cosa qua creerà un sacco di problemi perché chi è più avvezzo ci sta un pochino attento chi altrimenti c'è un minimo di dubbio di essere comunque fregato raggirato prenderà i propri soldi come ho già detto e li terrà fermi e li terrà fermi o addirittura visto che anche i contocorrentisti ci rispondono se li mette sotto il materasso quindi se li prendeva se li mette sotto il materasso e arrivederci allora per rispondere alla sua cosa le faccio un piccolo esempio Doriano in America è successo la truffa Madoff per milioni 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 di euro di euro sì là cosa è successo le regole ci sono anche là le regole sono anche là però le truffe le fanno anche là attenzione l'unica differenza che c'è tra noi e loro è che là ci sono delle carceri con le tute arancioni per i finanzieri che sbagliano e se tu prendi vent'anni fai vent'anni dentro seconda cosa là c'è un avvocato che ha preso in mano abbastanza aggressivo per usare un termine televisivo che ha portato a casa andando a dire a chi aveva fatto le regole e doveva controllare li ha sanzionati portando a casa il 60% dei soldi che sono stati truffati alle persone quindi le regole non è che non ci sono le regole vanno fatte rispettare se io non io come promotore finanziario e certificato non ci sono queste regole mi buttano fuori non lavoro più io ho questa cosa io ho questa cosa la faccia sola la capisco perfettamente però è chiaro che se facciamo l'esempio con altri paesi le regole sono molto diverse il nostro paese è il problema che praticamente su questa cosa qui le varie persone che sono state quanto meno raggirate in questo caso io vedevo ieri su Rai 1 questa vecchietta che praticamente ha perso 110 mila euro praticamente i suoi risparmi della sua vecchia è diventata povera non so se avete visto anche voi comunque ad ogni modo voglio dire questa vecchietta gli ha stato semplicemente detto se si scoprirà che è stata effettivamente raggirata non c'è problema perché possono rischiare fino a 5 anni ok fino a 5 anni lei non gli ridanno comunque indietro i suoi soldi primo se lei va a fare causa la può fare soltanto in maniera da sola non c'è la classe no non c'è non c'è la classe in Italia non c'è non c'è quindi su queste cose qua allora quando poi vengono risolte in questa maniera il segnale che si dà io poi è giusto che vada fatta la giusta informazione che quindi si faccia si divida il marcio dal sano però è anche vero che uno non può poi sapere che cosa può succedere quindi più che educazione io credo che bisognerebbe fare leva su quantomeno le sedi governative affinché o si norma la questione in una maniera che praticamente anzitutto non sono 5 anni ma sono di più e che si dia modo di fare una classe cioè una causa praticamente collettiva o più persone una causa collettiva esattamente o altrimenti praticamente la gente secondo me comincerà a porsi il problema e a non dover fare più nulla perché capisco le azioni normali in cui uno ci può andare a perdere ci può andare a guadagnare ma di fronte a queste cose qui di fronte all'acquisto di obbligazioni della stessa banca che poi vengono vendute in maniera molto tranquilla insomma nel senso che tutte le sicurezze poi uno firma ci sono le clausole non è la prima volta che il sistema bancario non in queste cose ma in altre comunque sia si comporta comunque sia non tanto correttamente e sembra che chi sta dall'alto che potrebbe comunque fare delle regole dalla consul dal governo sembra quasi che si volta sempre dall'altra parte però questa volta qui questa volta è proprio una cosa grave insomma questo sto dicendo assolutamente Doriano la tranquillizzo da questo punto di vista il suo intervento è calzante su quello che sta succedendo 12.500 persone sono in questa situazione e in quelle case lì quella signora lì che è simbolo ha perso tutto ha perso tutto io non voglio tornare su quello che si è suicidato esatto perché qualcuno dice non tiriamo l'imballo no quello però è morto no 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 le cose le leggo anche perché quando c'è una causa e un effetto va calcolato anche quello io sono però mi permetto Doriano come educatore finanziario devo tranquillizzare certi aspetti cioè è vero quello che dice lei però se io vado in banca e mi propongono qualcosa ripeto ci sono tanti modi per confrontare mi fermo mi fermo se non ho capito mi fermo la parola fiducia e non capisco non vanno insieme certo questa è la ragione non vanno insieme se non capisco anche se è un mio amico carissimo mi fermo e vado c'è l'albo c'è un albo dei promotori finanziari ne scelgo uno che non conosco che ha delle referenze su internet vado là chiedo un appuntamento è gratuito non vi fanno pagare e vi dice una persona vi fa un'analisi vi dice sì no sì ci sono anche dei consulenti finanziari indipendenti che non dipendono da questa cosa c'è l'albo adesso in discussione al senato che ti danno un'informazione e vengono pagati a parcella oppure nella prima caso io ne ho visti tanti di confronti non abbiamo mai fatto pagare niente a nessuno su un confronto dal punto di vista sto facendo una cosa per la mia famiglia o per la mia impresa io ripeto ha ragione lei ma io non voglio generare la mancanza di fiducia se no si blocca il sistema produttivo certo questo è fondamentale ed importante io non voglio far bloccare il discorso produttivo degli imprenditori sani che ci sono in Italia che ne parliamo ogni mercoledì ho portato più di 50 aziende a Restart ci guardi qualche volta per piacere 21.45 è mercoledì ma voglio dire che imprenditori sani che hanno bisogno di risparmio di italiani bravi ce ne sono tanti ci sono tante belle aziende queste cose marce qui ci devono fermarsi a far riflettere adesso applicare le regole e chi deve controllare deve essere sanzionato perché se non controlli l'operato che lavoro stai facendo il problema è chi è il controllore ce ne abbiamo troppi chi è il controllore chi è il controllato esatto troppi qua in Italia che si rimpallano adesso si rimpallano io devo andare assolutamente in pubblicità Cristiano in pubblicità va bene io vi ringrazio e niente grazie mille delle spiegazioni grazie a lei Doriano buona giornata grazie a lei buongiorno grazie andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta con Maurizio Poli grazie arriva la fiera del bianco il Natale è speciale da Fibra 1 dal 5 fino al 20 dicembre tutto è scontato al 50% centro moda casa la biancheria e il tessile arredo bimbo e nanna tutto per il sonno dei più piccoli nuovo spazio notte il riposo su misura nuovo centro tappeti il mondo del tappeto il Natale è speciale tutto al 50% fino al 20 dicembre a conti fatti Fibra 1 centro arredi Metalmark 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili quantità qualità prezzo questa è la nostra forza incredibile vendita promozionale con sconti fino al 70% le migliori marche al prezzo di fatti